Sì, sì, sì. Sì, tanto. Dall'Ucraina. Da Norimbega. Da Sud Inghilterra. È la prima volta che ho un insegnante veramente italiano. Sì, sì, sì. Sì, tanto. Mi piace molto. Il corso è molto veloce, è molto interessante, è molto divertente. Comodo, è molto emozionante. Sì, mi piace. Sono contenta con queste lezioni online. È una bella cosa. Mi piace molto perché si può conoscere persone di tutto il mondo. Il gruppo è meraviglioso, la professoressa è meravigliosa. È divertente. È molto conveniente. Mi piacciono molte cose di italiano online. Preferisco le lezioni online. Il modo di imparare è molto piacevole, molto divertente. Lezioni non noiosi. Mi sento come la scuola. Mi piace la qualità del programma. Forse sono molto interessante. Il corso online è molto buono. Ridiamo tanto, anche studiamo, no? Ma ridiamo tanto. Vengo di Belgio. Russia. Sud Inghilterra. Londra. Vengo dall'Ucraina. Abito vicino a Parigi. Io sono brasiliana da San Paolo. Australia. Sono cieca. Sono russa. New York. Vengo da Norimberga. Norimberga. Sono scagnola. Vengo da Neselefine. Stammo. È facile. Perfetto. È la prima volta che ho un insegnante veramente italiano. Professore molto gentile e straordinario. Per dirti, io preferisco fare quello online. Molto comodo. Per me è molto efficiente. Con la classe online posso fare tante cose. Posso lavorare e anche imparare la lingua. Opportunità per continuare a studiare alla casa. È divertente. È facile anche. È comodo fare il corso con Zoom. Secondo me è un nuovo metodo che funziona, un nuovo modo che funziona molto bene. È interessante e divertente. Ho imparato molto. Ogni giorno è diverso. Adesso la professoressa è molto speciale. Mi amico tantissimo di farlo perché è veramente un'esperienza molto buona. Sì, assolutamente sì. Sì, sì. Assolutamente. Wow! Io per sicuro. Ho consigliato di fare il corso online. Sì, decisamente. Sì, naturalmente. Consiglierò subito. I corsi online sono perfetti. Lo consiglio a tutti se voglio imparare o migliorare l'italiano. Consiglio agli altri che pensano a fare questo. Fatelo. 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 Sono trista perché queste lezioni per me è finita. Per me è finita di capire.